Uno dei principali punti di forza dell'Air 3 è il sistema a doppio obiettivo. In questo video analizzerò la qualità del teleobiettivo moderato da 70 mm in video e foto e come interagisce con quello grandangolare da 28 mm. Quando ho iniziato a utilizzare i droni circa 10 anni fa, quello che mi mancava di più era la possibilità di cambiare obiettivi con lunghezze focali diverse, come nelle fotocamere DSLR. Primo modello di Drone Pro Zoomer DJI dotato di doppia focale è stato il Mavic 2 Zoom che all'epoca utilizzavo moltissimo. Poi è arrivato il Mavic 3, prima con un secondo obiettivo con un enorme fattore di zoom 7 volte e poi con un sistema a 3 obiettivi. I due obiettivi dell'Air 3 sono un grandangolo da 24 mm con sensore da 1 diviso 1,3 pollici, un'apertura molto ampia di f1,7 e una risoluzione fotografica di 12 megapixel. L'altro è un teleobiettivo moderato da 70 mm con le stesse specifiche ma con un'apertura di f2,8. Nella prima iterazione del Mavic 3 la qualità del teleobiettivo era inferiore a quella del grandangolo, il che rendeva difficile integrare filmati e foto realizzati con i due obiettivi nello stesso progetto, anche se in seguito è stata nettamente migliorata. Con l'Air 3, DJI sembra essere partita immediatamente nella direzione giusta. Iniziamo dal lato video, analizzerò le foto più avanti. Il filmato della stessa scena ripresa con i due obiettivi è molto simile. Con il teleobiettivo il filmato è leggermente più scuro, il che è comprensibile a causa dell'apertura minore del diaframma. La qualità è ottima, forse con un tocco di contrasto e dettaglio in più rispetto al grandangolare. Il bilanciamento del bianco è praticamente identico e quindi le clip prodotte dai due obiettivi possono essere facilmente integrate nello stesso progetto. Per me il sistema a doppio obiettivo è un vantaggio enorme. In pochi minuti si riesce a produrre una varietà molto più ampia di riprese, alternando i due obiettivi sulla stessa scena. Il teleobiettivo da 70 mm è compatibile con le tre diverse modalità colore dell'Air 3. D-Log funziona perfettamente e anche in questo caso il risultato è molto simile a quello ottenuto con il grandangolo. Le stesse LUT possono essere utilizzate per il color grading. HLG è un'ottima alternativa. Probabilmente è quella che darebbe i migliori risultati per i miei gusti. Ma ha bisogno di qualche miglioramento. Quando l'ho provato la prima volta, tutte le riprese erano completamente sorresposte, inutilizzabili. Dopo diverse prove ho riscontrato che l'esposizione corretta si ottiene sottoesponendo da uno stop e mezzo a due. Ovviamente con l'immagine sullo schermo parecchio scura. Inoltre i file prodotti in modalità HLG sono estremamente impegnativi in termini di risorse informatiche. È difficile visualizzare i filmati in tempo reale e la codifica richiede moltissimo tempo. Spero che DJI risolva questo problema molto rapidamente. Il teleobiettivo è compatibile con tutte le diverse modalità intelligenti dell'Air 3. Spotlight, Active Track, Point of Interest, Waypoint, Cruise Control, Master Shot, Quick Shots e persino Hyperlapse. Questo è eccellente per mettere insieme rapidamente filmati molto interessanti. Con una lunghezza focale maggiore qualsiasi movimento appena brusco viene amplificato nel filmato risultante. Quindi si consiglia di utilizzare modalità intelligenti quando possibile. È anche molto utile per il tracking quando non possiamo avvicinarci molto al bersaglio. Ma il 3 Pro viene fornito con tre obiettivi di lunghezze focali di 24, 70 e 166. Anche se il teleobiettivo extralungo è occasionalmente utile per effetti di parallasse, per riprendere persone e per tracking da lunghe distanze, la scelta del teleobiettivo moderato da 70 mm mentre come secondo obiettivo per la R3 è saggia, poiché questa è la lunghezza focale più versatile e può comunque fornire qualche interessante effetto di parallasse. Finora nelle mie analisi di fotografia prendevo in considerazione soltanto i file RAW. Ma con la R3 ho deciso di analizzare anche i JPEG per due motivi. Sempre più utenti mi chiedono di discutere sulla qualità dei JPEG poiché li utilizzano per pubblicare sui social media con poche modifiche. Inoltre trovo che l'elaborazione dei file JPEG nell'Air 3 sia eccellente. Un enorme passo avanti rispetto al Mini 3 Pro e agli altri modelli DJI precedenti. Qui possiamo vedere file JPEG ripresi con il teleobiettivo alternati ad altri ripresi con il grandangolo per apprezzare quanto sia simile l'elaborazione e quanto bene possono essere integrati nello stesso progetto. Con entrambi gli obiettivi la qualità è eccellente e possono sicuramente essere utilizzati appena usciti dalla fotocamera anche se a volte un tocco di contrasto e saturazione in più può essere utile. Ho l'impressione che le immagini scattate con l'obiettivo da 70 mm abbiano appena un tocco di contrasto e dettaglio in più ma difficile da notare. E adesso uno sguardo ai file RAW. Il teleobiettivo come al solito mostra eccellente dettaglio e contrasto bei colori e un'ottima struttura del cielo. Guardando fianco a fianco le immagini realizzate con i due obiettivi notiamo che sono molto simili e possono essere utilizzate nello stesso progetto. Quelle realizzate con il grandangolo hanno a volte una leggera dominante magenta al centro dell'inquadratura. Credo che preferisco quelle realizzate con il teleobiettivo e di nuovo apprezzo molto la diversa prospettiva e la più ampia scelta offerta dal sistema doppialente. L'unica funzionalità non ancora disponibile con il teleobiettivo è la fotografia panoramica ma si può comunque realizzare manualmente utilizzando un programma di foto editing per risultati molto interessanti e un'enorme risoluzione. Spiego come farlo nel mio video sulla fotografia panoramica con l'Air 3 cliccate sul link qui sopra per guardarlo. Teleobiettivo è compatibile con la modalità Hyperlapse e trovo questo molto interessante dato che sono un appassionato di questa tecnica. Purtroppo non ho ancora ricevuto i filtri ND che sono obbligatori per Hyperlapse seri ma presto farò un video a riguardo. Cliccate su questo link per guardare il mio video sulla fotografia con l'Air 3 e non dimenticate di premere il pulsante mi piace se avete trovato questo video interessante. Grazie